Prima in questi quattro anni questo Consiglio di Presidenza, nonostante le difficoltà, ha lavorato, credo, abbastanza bene, soprattutto se per un attimo mi riferisco all'attività svolta con la Fondazione Federico II, che ha ottenuto dei risultati veramente, come dire, notevoli, ma di questo ne parleremo alla prossima conferenza stampa, quando col Direttore parleremo anche della nuova mostra che si terrà proprio qui a Palazzo del Normandio il prossimo marzo. Delle iniziative importanti sono state fatte da questo Consiglio di Presidenza e i risultati si vedranno in tempi relativamente brevi, da tagli che sono stati fatti a tetti degli stipendi e via discorrendo. Dal punto di vista dell'azione normativa, questa Assemblea, devo dire, in questa legislatura forse non ha prodotto il meglio che ci si poteva aspettare. Molte leggi sono state, ahimè, impugnate, altre non sono nemmeno arrivate ad essere discusse in aula. In particolare, a questo punto, mi riferisco ai miei due disegni di legge che da tempo ormai sono fermi in commissione, che tendono a una stabilizzazione del precariato, anche se adesso il Presidente Crocetta proprio oggi ci ha detto che la Giunta esiterà un disegno di legge che dovrebbe arrivare a giorni per procedere eventualmente alla stabilizzazione dei precari dell'amministrazione pubblica. Altri disegni di legge, come per esempio quello sulla semplificazione della burocrazia, è appena prodato in commissione. Speriamo che la commissione possa esitarlo in tempi ragionevolmente brevi. Sarebbe un segnale molto importante per la nostra terra, dove con difficoltà si prova a far partire attività imprenditoriali. Quindi, voglio dire, ci sono ancora pochi mesi, qualcosa può essere ancora fatto, nonostante, personalmente, devo dire che tutta l'intera esperienza, la mia esperienza personale, chiaramente è stata un'esperienza molto importante, sotto diversi profili. Sotto il profilo della produzione legislativa probabilmente si poteva fare di più, ma questo è nelle cose. Io nel libro che sta per uscire parlo di un palazzo del frattempo, dove non si guarda mai al futuro, ma si vive una sorta di presente dilatato, dove si è costretti di giorno in giorno a rincorrere delle emergenze senza la possibilità, la capacità di impostare, organizzare un lavoro in previsione. Questo stato di... Io mi ricordo una delle prime riunioni, una delle prime celebrazioni, credo che si dica così, del ventaglio. Mi ricordo che il mio intervento fu... non si fa altro che passare da una emergenza all'altra, quasi come se queste due diverse anime della stessa regione, Assemblea e Governo, lavorassero insieme, non per risolvere, ma proprio per aumentare questa sorta di crisi continua.